I numeri Sampans, le caratteristiche imbarcazioni cinesi dove centinaia di migliaia di famiglie trascorrono tutta l'esistenza, dalla nascita alla morte, erano ammassate sulla sponda del fiume Perla, mentre i giapponesi sferravano l'offensiva su questa roccaforte della Cina Meridionale. Gli ospedali di Canton non riuscivano più a contenere i feriti e le autorità reclutavano perfino interi battaglioni femminili nella vana speranza di arginare con nuove forze irresistibile avanzata delle truppe del Mikado. L'aviazione nipponica con intensi bombardamenti aerei semina il panico, preludio della capitolazione definitiva. Grazie